Pronto? Pronto? Non c'è campo, c'è te parettato il cuore. Pronto? Ti parla? Pronto? Sì. Ti parla? Sono Maurizio. Ma chi cerca? Con chi vuol parlare lei? Volevo parlare con Catatenti. Sì, è senso. Tenti, Catatenti infatti. C'è tu chi è? Pronto? Tenti? Tenti? Gli essensi? Sì, ho capito, sono Maurizio. Che pezzo di nome è Maurizio? Maurizio Vottanto.